E siccome io avevo questa voce, che avevo le quattro ottave, potevo fare la Carmen, perché poi la ballavo, ho studiato danza all'opera, e potevo fare il rigoletto con il mi bemolle sopra acuto in caro nome, lei voleva fare la nuova, la nuova grandissima... Ma perché non fai la presidentessa? E Gen mi disse, se mi date una Pampanini, un Dapporto, una Roll Dottieri, tutti attori di teatro, Aveninchi, bravissimi, io ero la protagonista e certe volte era in presa diretta, ci siamo doppiati solo pochissimo, perché su Cinecittà passavano gli aerei. E' vero, non erano insonorizzati. E allora dovevamo... ma dicevamo adesso te sbagli tu, no, mi dispiace ma te sbagli tu. Lei era anche brava o solo bellissima? No, ero bellissima e anche molto molto brava, perché sempre con la mia voce.